Ok, ragazzi, si riprende con il nostro bellissimo Bully Dobbiamo fare delle missioni, non finirlo sto cazzo di gioco, ci sarebbe anche ora a Cristo A volte mi dimentico che la Rockstar fa dei giochi piuttosto veloci, sì, giochi piuttosto lunghetti Però volevo farmi ragazzi anche, mi ricordo come cazzo si chiama, ah giusto, GTA San Andreas Ma, aspettate che guardo un attimo la moppa perché devo vedere, oh di Gesù Maria, madre di Dio Ok, la missione è in città, bene Ok, vado a prendere il motorino, comunque vi stavo dicendo praticamente dovrei fare GTA San Andreas, io non l'ho mai fatto in vita mia, proprio non scherzo È uno dei GTA che non ho mai finito, avevo giocato proprio poco 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 all'inizio Poco poco, dove cazzo sto andando? Ho mai detto strano Avevo giocato poco poco all'inizio E poi l'avevo mollato come avevo già detto un'altra volta L'avevo mollato perché avevo problemi con la scheda grafica Quindi non so un cazzo, né come si svolge la storia, né niente, non so nulla So solo che il protagonista si chiama CJ, basta, non so altro Ha detto che uno degli achievement di questo gioco è rubare le bici Lo facciamo ora perché mi serve una bici Ciao Comunque sì, probabilmente lo platino assieme a voi ragazzi, forse, non vi prometto nulla Perché ci sono parecchi achievement da prendere, però nulla di esagerato Comunque sto un po' accorto di serie da portare ragazzi Cioè dovevo portare il secondo DLC di Resident Evil 7 Ma boh, non credo che voi siate molto interessate Figlio di puttana Non credo che voi siete molto interessate a GTA Sì a GTA Resident Evil 7 Quindi boh, non lo so Brava Abbiamo il condominio Oh un po' accorto Hey, good looking What's up? Oh, you're so angry, but I think you've got a softer side Haven't you caused enough trouble? That's not fair! I'm a nice girl, I'm nice to everyone No, everyone hates me Look, I'm sorry Well... Okay But now Johnny and his boys won't even speak to me Sì, ragazzi possono scegliere davvero scegliere quando scegliere che hai chiesto di un altro bambino. Non è così così. Non è così così. Ok. Ma ho lasciato tutte le mie cose in gli abbandonati che hanno chiamato. Mi address book, le pezzi, la pezzi, la pezzi, anche la pezzi, anche la pezzi. Tutti. Ora ho niente. Non ho molto. È così male. Magari potete rinforzare i miei? Vuoi me rinforzare i miei dei bambini di un pezzi di mobi di angry grease balls? Io sarei molto grafica, Jimmy. Molto grafica. Mink, ragazzi, io non posso praticamente mollare i titoli. Nel senso che, ad esempio, a Bulli non ci sto giocando da più in una settimana, più o meno. Da una cosa a tirare l'altra la sto mollando una settimana. Cioè, mi stavo già dimenticando i tasti. Scusa una cosa. No! Cagate le palle. Comunque che palle. I graffiti spariscono, ragazzi. Li potete fare dove vi pare, ma poi spariscono. Quindi, neanche mi spreco a farli. Non ha senso. Brutto, qualche figlio di puttana mi sta lanciando uova. Sono un po' odiato nel quartiere. Figlio di una puttana, oh. Oh, mica, beh, hai rotto il cazzo. Sto di merda, oh. Un sacco di scrotto. Krishna il calcio. Eh, che non può... Dov'è, colpi veloci qui, perché altrimenti... Oh. Oh. Eh, se il po' di sotto rompe il cazzo a me, mi incazzo malamente, eh. Bottiti, bastardo. Mi ha rotto il cazzo, brutta coglione. Faffanculo, testa di cazzo. Toh. Toh, ne coglioni. Toh. Tanto non ti servirà nulla, pezzo di merda. Oltretutto, fra poco dovrei andare a dormire. Sì, fra poco, tipo... Signore. Quegli oggetti di Laila, ok. Minchia, io vi giro... Per queste missioni c'ho il vuoto totale. Non mi ricordo un cazzo. No, che cazzo fai? Idiota! Ok, allora... Dobbiamo cercare gli oggetti di Laila. Chissà com'è meglio a tutti qui. Minchia! Io ho vicino sbaglio i tasti. Ho giocato troppo a COD. Figlio di una merda, bagassa. Notare quella vita al massimo. Nonostante mi avrebbero un massacrato di botte. Ok, ce n'è un altro in questo piano. Poi devo salire di sopra. Ragazzo. Ok, qui trovo un modo per abbattere i tuoi. Ciao, troazzi! I duri. Uh, perfettista! Non so manco come l'ho fatto. Mi avete cagato, ma la mente è il cazzo voi. Eia! Bravo, bravo coglione! Ho trovato che il combino i miei uomini smucia la mia mente ora. Testa di cazzo. Ok, ho preso la bevanda. C'è qualcosa qua a fianco. Problema è come faccio ad entrare. Mi serve un'arma, tipo. Mi serve qualcosa. Posso usare un stronzo come ariete. Ho trovato che il combino i miei uomini smucia la mia mente ora. Ah, forse dal pieno di sopra posso entrarci. Mo' provo. Ecco, qua. Merda, non la fionda! Bastardi. Eeeh. Non ce n'ho fava di niente. Qua? Come cazzo gli ha batto i muri? Boys, è Jimmy! Oh, berda. Cosa è stato l'hardoso? Scusate, che fai? Come on! Ti vuoi andare reale a me? Che pezzo di merda. No, prendiamo cura del ciccione qua. E qui... Mi spacchiamo il culo. Allo smizzo lì dietro che mi ha rotto le palle. Oh, vieni a prenderla. Oh, la cavità, l'hardoso del cazzo. Vai a mangiare il panino. Non rompe le palle. Cioè, no. Io vi giuro l'odio. È colpa mia. Io non palo mai. Come vedete, non... Non cambia neanche le mosse. Perché i pugni veloci li preferisco. Per le altre mosse devi, tipo, tenere premuto e carica il colpo. Però, in quel frangente... Magari lo stronzo può darvi un colpo. Vale. Coglione, dai, vuole prendere. Stai, sei figlio di puttana. Ecco, sbucciami le palle. Ok, sono quasi arrivato in realtà. Ci deve essere qualcosa qui. Culo, cosa sta roba? Rossetto, ok. Sto mettendo la vagina. Ah, qua c'è un altro. Mechie, l'odio. Ma che armi ho? Magari me la posso sfangare con queste armi. No, 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 no. Un cacchio. Forse serviranno, tipo, petardi potenti. Qualcosa del genere. Troveremo qualcosa al piano di sede. Se questa traccia è vicino, sei sul freddo con le ragazze. Codiavolo, schifoso! Eh, vabbè, calcio alle sedie, testa di cazzo! Madonna, l'odio, l'odio! Dammi che cazzo di fionda, morca bagassa! Ah! Puttana. Testa di merda. Più veloce, più veloce! Che cazzo, toh! Che cazzo di merda. Ok, no, non volevo rischiare di crepare, perché già questo gioco qui non ha salvataggi, trovi di te del genere, non li ha. Madonna, questo li ho sbatto nel muso. Lo faccio diventare un carlino di faccia, sto stronzo. Toh! Toh, morca bagassa! Toh! Toh! Ti piacciono le botte, ti piacciono le botte, morca muttana! Orca puttana! Questo succede a me. Che cazzo. Allora, forse potrei usare qualche oggetto contundente per rompere la parete, non ne sono sicuro. Dovrei fare un test. Perché sicuramente serve un oggetto contundente per spaccare la parete, cos'è? Ah, no, aspetate! Wow, wow, che stai facendo qui? Ecco, vedete? Oh, bene, 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 bene. Porca, questo mi inculla male, aspetta. No, che cazzo fai le foto? Ok, lo inculo così. Se carico il colpo è meglio, ma... Vai, il subastello mi resterà molto utile! Vai! Vai! Bastardone! Dai! Dai! Dai, il crepo! Oh, ciao! Grazie mille, bello! Ok. Oh, bene, 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 bene! Ciao, con questo! Se becco altri stronzi in mezzo alle palle, gli spacco il culo. Ma è strano, però, mi fa entrare qui per cosa? Non c'è nulla? Nada? Neanche un lastichino? Se c'è, non lo vedo. Che figo, però. Oh, cazzo, guardate la vita, ne ho poche. Oddio. Allora, devo scendere di sotto. Spero di non incontrare coglioncelli da quattro soldi. Aspetta, c'è ne uno qua. Ok. Ciao, qui c'è... Qua il pompone assicurato, ragazzi, ce lo siamo proprio guadagnato. Oh, yes! No, aspetta. Forse devo andare di sotto. Qui hanno le scale, però. Qui, 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 qui. Oh, yes! Ma c'era l'ultimo di sotto. Vediamo cos'era. Ma soprattutto voglio vedere la ricompensa. Oh, no. Che cazzo fai? Ah. Boh. Questo troione veniva a scopare qui e ha dimenticato le cose. Dio santo. Ok. Missione è compiuta! Super boccone in arrivo. No, che palle. La roba di coglione adesso che ho completato la missione. Ne possiamo fare anche un'altra volendo, eh. Perché sono solo le otto, meno dieci in pratica, quindi, cioè, c'è tempo volendo. Questi cazzo... Ah, le carte! Forse anche le carte devo recuperare per, ehm... Per l'achievement. Dio santo, quanto merda dovrò fare. Dio santo, veramente. Però vabbè, andiamo dalla porcona, vediamo che ci dice. Sempre se sto andando nella direzione giusta, perché sto uscendo dalla città, in pratica. No, forse qua è... Ok, è qui. Oddio, ho fatto bene a fare sto giro della mia. Ma scusa, è qui, ma non lo vedo? Cioè, mi prendi per il culo? Allora è di sotto. Quanta carta! Dove cazzo è quella vacca di merda? Oh, è qui, eccola. Tieni, vacca, ti ho preso le tue cose. Grazie, honey. Sei bella. Penso che sto in amore. Dio santo. Non era così grande? Sì. Oh no, arrivano i coglioni. Qua c'è un'altra missione, lo facciamo, la rissa. Subito. Qua c'è un'altra missione. Tutto perché di me. Sono come Helen of Troy. Quindi ci sarà una grande combina? Un'�icione di tutto? Sì. Tutto è coinvolto, a parte di te. Sono Helen of Troy e tu sei più interessato in... ...di ragazzi che chiamano Troy. Qualcunque. Siamo dopo. Oddio. Oddio. Trova Peanut. Vorrei ringraziare Pinolone. Perché ogni volta che lo invito a casa a vedere il film, parla per tutta la durata del film, facendo battuto ogni due secondi. Grazie Pinolone. Ma soprattutto, coglione, io che non ho preso quel cazzo di... Sì, vabbè, è persa questa. Vi dico che è persa. Cazzo, merda. Non ci ho pensato. Ma forse è ancora qua. Eh, che cazzo c'è? Ti è succedendo in questo... Oh, i due. Prendile, basta. Prendile! Io li odio, questi che stanno da parte e usano la fottuta fionda. Brutto, ho rotto il culo di merda. Te la infilo in culo, quella cazzo di... Eh, no, basta, basta. Dammi questa cazzo di baston. Toh, a colpa di spranga. Toh, toh, cazzo. O bastone, anzi un bastone, neanche una spranga. Brutto, coglione. Testa di cazzo, le infilo in culo. Capisci che te la infilo in culo? Quella cazzo di fionda da stronzi. Toh, dagliere di più. Ah. Dagliere ancora. Cacchio. Eh, vai! Dai. Dagliere di più a sto coglione. Tornare il veicolo? Bullismo! Ok, andiamo. Io non ho un veicolo tecnico. Ah, spesso, confici crazy. Ancora? Oh. Oh. Who won? Me! Jimmy Hopkins! That's who! Who won? You! Who? Jimmy Hopkins! Correct! That's right, ladies! Me! I'm the daddy now! You treacherous little snake! You think you're tough, huh? You don't need any more of this, Johnny. You laugh at me? You turn on me? You get it on with that harlot who I, I love? Oh, I'm gonna destroy you! All right, calm down, man. It's cool. You lost? No big deal. We can all be friends. You're done, kid. Finished! Allora, spacchiamogli il culo a sto stronzetto. You learn to keep your hands off my girl. Adesso vedi. Get out of here! Oh, Sbirri! You're lucky, Jimmy. I'll kick your ass later. Oh, bene, lo abbiamo preso. Stop, let's have an officer of the law! Get back here! Oh, bene. Gli Sbirri dovrebbero preoccuparsi di qualcosa di più importante che di una semplice risa fra ragazzini. Dio. T'ho correndo veloce, veloce! Scappate! Ssht, tolti! Ah, minca, per un becco... Aspettato. Devo cambiare strada. Si bensì, che sono me. Gli altri sono colpevoli quanto a me. Guardate! Stanno scappando! Cristo, con delle mazze in mano. Siamo alla festa delle mazzate dei Simpson. Bastardo! C'è un sacco di merda! All right, boys, good work! I've got them where I need them! He's gonna get all you greaseballs! Sacco di merda! Hey! How do you like that, greaseball? You're gonna get greaseballs! Dai! Jimmy's my friend! Better start running! Cazzone! I came around here! One more down! Watch out, Jimmy! That's what you can get, that's what Jimmy! That's all but I'll get to... a peso merda sono fottuto però non ho vita life we need life è una grande cazzone ma come cazzo fai ah di tu mi schiaccio con la testa cristone vita dai rompe le palle cazzo questo giugno è forte cazzo si è forte eh però le sto prende da nuova dai ma come cazzo fa mica mezzo col petto mi stendo praticamente da cazzo è mica oh mi tu di tutta la vita con un colpo ma che cazzo è dai quando si inizia a parare mi allontana ok eccola vedi non mi riesco mai quando allontanare ok bastarda tua madre ma guarda guarda cazzo di scimpro aspetta 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 eh vai ciò con che cazzo ciò che cazzo di scimpro Got it. I'm in charge. You do what I say. All right. I give up. You can have her. Who? What are you talking about, Johnny? Lola, you win. She's yours. This has nothing to do with her, man. I don't care. You can keep that slut for yourself. What? You don't want her? Then why did you do this? Why'd you fight? Just to prove you're tougher than me? That's right. And don't you or your boys forget it. I'm tougher than you. So maybe now you'll stop bullying everyone. You work for me now. Oh, man. I'm starting to feel pretty good about myself. I've just taken control of two of the school worst clicks, but I know there are bigger problems just around the corner. Problems with overdeveloped pituitary glands and brands the size of peas. Insomma, ho già il capitolo 4. Mi pare che sia l'ultimo o il penultimo capitolo, se non sbaglio. Quindi non manca più tanto. Poi potremmo cazzeggiare un po' il giro. Now that I'm cool, I'm not sure we can be friends anymore. What? I'm messing with you. Real funny, Jimmy. Well, when you're done with this place, a career on the stage awaits. Maybe, maybe like a male stripper or something, huh? What? So, um, what about Gary? I haven't seen him, but whenever I hear somebody say I used to be a girl and had a sex change, or that my mother slept with crabblesnitch to get me in here, I think to myself, Gary! Gary! What a jerk! You don't even call me a dork! Well, I guess he's not always wrong. Is that what you really think? Whatever, Jimmy. You know, I stand up for you, and you still think I'm a dork. You're a jerk! And you're a dork, so we're equal. Whatever. I'm leaving. Ow! Now maybe next time you'll watch where you're going. What'd you do that for? Oh, I'm sorry, Psycho. Did I hit your boyfriend? Yeah, Psycho. You're gonna try to kick our asses now? No, I think I'll do that more publicly. Ooh, I'm really scared right now. Really scared. I take down linebackers every day, pal. Whatever, pretty boy. You'll get yours. Yeah, we'll see about that. Ouch. Go have some fun in the communal showers. Ooh, I just dropped my soap. Please pick it up for me. Damn. Losers. Petey, get up. Jimmy, do you hurt? I think we found some new people to have some fun with. Hey, Jim, I got some homework to do. I compiti? Cosa? Allora, vediamo. Ci sono parecchie stelline, però sono rosse. Quello è rosse? Non ho capito, se no... Allora, fammi vedere il menu. Oh, fanculo. Beh, grazie del menu, eh. Bleep, che cazzo sarebbe? Ah, ok. Non so se quelle rosse sono tipo... Missioni secondarie e roba del genere. Probabilmente quelle gialle sono solo della trauma principale. Io direi di procedere con la trauma principale, poi... Piano piano. Ci butteremo anche su quelle secondarie. Giusto per completarlo. Allora, io direi di andare... Prima di andare a fare la missione... Salvo un attimo, ragazzi, aspettate. Cazzo, mi rompo le palle per il codice d'abbigliamento, ma siamo pazzi in testa. Perché la campanella è grigia? Cosa sarebbe questa? L'ho salvato, fammi vedere. Lezione d'arte. Me l'ho fatta. Ok, allora, tecnicamente la lezione che scatta adesso è in più. Non ho assolutamente bisogno di farla, quindi l'assalto. Se la campanella è arancione vuol dire che è una lezione che non posso mancare. Se invece è grigia vuol dire che sono tipo ripetizioni. E mi sta bene. Comunque avevate ragione. Nella versione PC di Bulli ci sono lezioni in più. Infatti, tipo, mi ricordo le lezioni di biologia erano le mie preferite, cazzo. Quello dove aprivo le rane, che figata, cazzo. Pecchiato, però, pecchiato. Però nella versione PC è una merda, ragazzi. Mi crasha troppo e non posso rischiare. Già un gioco abbastanza lunghetto, quindi... I may be a loser, but at least I've got loser friends to hang out with. Whatever. We wouldn't let you into our gang, Pete, because you're weird. Weird? Look at you, you've got a weak bladder. Hey, Algie, I need some help. I've got a plan to take over those jock scum. Hey, Jimmy. Hey, so what do you say, Algie? Us help you? Yeah, think of everything I've done for you since I got here. You? You're like a bouncer. We're a bit above helping people like you. I mean, get real, duh. Peastain! Now you need my help. Forget it. Damn! Well, you know what you've got to do now, don't you? What, beg? No, get to Ernest. He runs that clique with a rod of iron. You get him on your side, and you've got the rest of them meeting out of the palm of your hand. How? By joining the trigonometry club? No, that would never work. You've got to show him who's boss. You might be on to something. See you later. Hey, wait, Jimmy. Can I come for once? Hey, losers. Mind telling me where your fearless leader is? I'm afraid that your diplomacy skill is too low. We won't tell you. Who found my cologne? Damn, bitch. Mi scassano il cazzo quando fanno così, veramente. Sacco di merda. Is that the observatory? But don't tell them I told you. Ah. Okay, the observatory. Dovrebbe essere da questa parte, infatti. Sì. Noi. Sì, mi vuoi picchiare con un rigolo. Porca bagazza, mi picca con un rigolo sto sacco di merda. No, non te ne verrai. Mi hai picchiato con un rigolo. Stai a terra, coglione del cazzo. 1-1-3-8, ho detto. Adesso doveva un'automatica, sì. Credo io volevo petardi, ho preso. Infatti, sta zona non l'avevo mai controllata. Cazzo. I figli di putera mi puntano! È guerra! Violenza con le armi. Solo me la conta, capito? Coglione di merda. Porca la cazzo mi sta sparando. Giù, merda. Ok. C'è un'altra coglione qua. Eeeh, bastardo! Mi ho preso in pieno. Die, die, cacchetta giapponese. Costume da ninja sblocca. Che figata! Devo aver preso qualcosa. Oh, sì! Mio! Capacità massima, lo voglio usare. Ah! Ciao, merda! Che figata è! Il management non ti salvare, Huggins! Ristone! Oh, è morta! Toh! Dammi munizioni, bastardo! Pacchetto, ho detto pacchetto di cazzi! Cosa? Toh! È fortissima quest'arma, un colpo, basta! Ti esplode un fuoco d'artificio e falso. Eeeh! Ti esplode un luogo d'artificio, ho dovuto dargli questo! Toh! Fatemi strada, merdine! Toh! Ahahahah! È troppo bello! Cazzo, minimo dovrò recuperare, perché ci passano anche gli elastici di merda! Shit! Non ci avevo pensato. Ovviamente per il platini, intendo, eh! Quindi mi dovrò girare tutta la cazza di città in cerca di ogni minima cosa. Ok, qui è ripulito dai bastardoni. Andiamo avanti. Sei bloccato, eh, ok. Distruggi il trasformatore, ok. Credo che l'arma giusta ce l'abbia in mano. Ok. No, c'è Rockstar, altro che GTA 6. Non ci serve GTA 6, ci serve Bully 2. È un fettuto spara-uova. Che cazzone! Aspetta. Quello devo sparare, vero? Vediamo se ci riesco. Yes! Ok. È andato benissimo. Che c'è qua? Devo usare al minimo il loro cannone per abbatere la porta. Un cannone spara-uova. Siamo seri. Bastardi, ore 2! Che bastardoni! Sì, ciao! All'otta buonadena! Un sacco di merda! Fuori! Dai, dai, stai distruggendo. Non c'è bisogno neanche che gli preoccupi col coglione. Oh, ok. Promosso. Rispetto a sicurezza, meno 100. Tutto già perso, mamma mia. Siamo fuori di testa. Come on! Come on! Non c'è nessuno, non è vero! Il tuo braun è un nomad per le mie tecnologie superiori! Ah, ok! Andato, andato, forse... Cacchio! Si è venuto uno stronzo! Ho beccato! Cacchiarolo! Olè! Questo è per te, Jimmy! Oh, cacchio! Eh, vabbè! Dinamite, che cazzo è? Brutto sacco di merda! Brutto pezzo di sterca! Ah, ah! Ti piace questo! Guardate... Sono a distanza, più o meno... Oh, ti piace questo, Jimmy! Sei veramente un pezzo di merda, sappiamo! Ho un prezzo per te! Ciao, coglione! E ho molto bisogno! Ho molto bisogno! Non possiamo tutti riuscire? No, non possiamo perché sei un bambino! Ah, ah! Sì, ho gli ucchi! Quindi cosa? Eh? Dove dovrebbe sei andato? Allora... Dove dovrebbe sei andato? Ah! Tu sei proprio come tutti altri... Picchi a un po' di chi! Non sono come tutti altri! D'acqua! Ora, ascoltiamo! We both want the same thing, to teach those jocks a lesson, from now on we're buddies You have a funny way of showing friendship. We're friends. We work together Finito che finito per modo di dire Ok, allora ragazzi direi Che spezzo qui let's play, però ora abbiamo parecchie missioni da giocare, parecchie, parecchie, sì sì Spezzo qui let's play, però ragazzi abbiamo, vedete, alle nostre spalle ci sono ben due stellette accese Nella città, sembra che non ci sia altro, ok Però ragazzi, spezzo qui let's play, spero che vi sia piaciuto e come sempre ci vediamo al prossimo Ciao a tutti Ciao a tutti